Chi sceglie Lega sceglie sicuramente la via più facile per continuare a fare ciò che di poco lecito c'è in tutto l'estivale. Non sono io che devo dire che la Lega nasce per tutelare chi è che voleva evadere il fisco e fare del nero negli anni 80. Quindi tutti quelli che scegliono Lega sono dei potenziali per il Degli Unessi cittadino.